Io sto andando, è sicuro che non torno, quindi addio. Questo è il post pubblicato da un tunisino di 25 anni su Facebook e ritenuto sospetto dalla Digos della questura di Ragusa. Il giovane, secondo le forze dell'ordine, avrebbe inneggiato al terrorismo e aveva una chiara connotazione di cidaista. Si è deciso quindi di procedere con un provvedimento di espulsione del tunisino dallo Stato, per motivi di sicurezza. Il 25enne è già stato rimpatriato, accompagnato nel suo paese di provenienza con un volo diretto a Tunisi, decollato dalla frontiera aerea di Roma-Fiumicino. L'immigrato, che frequentava la moschea di Donna Lucata, era residente a Scicli ed è incensurato. Era arrivato a Palermo nel 2008, aveva un regolare permesso di soggiorno, rilasciato anche dalla questura di Ragusa. Durante la perquisizione non sono state trovate armi, ma dalle indagini degli uomini della Digos è emerso che il giovane era amico di altri due tunisini, già espulsi il 14 aprile scorso. Infine, sarebbe risultato sintomatico il mutamento del suo aspetto esteriore e l'assidua frequentazione di piccoli gruppi interessati all'approfondimento di tematiche religiose. Per questi motivi è stato adottato il provvedimento di espulsione a firma del ministro Minniti. Con il rimpatrio di ieri, il 55esimo del 2017, informa il ministero, sono 187 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio paese dal gennaio 2015 ad oggi.